Non c'è pace per la Mingardina, un altro masso sta per staccarsi dalla montagna di pietra che sovrasta il tratto di strada tra Marina di Camerota e Palinuro. La carreggiata è di nuovo chiusa al traffico 24 ore su 24. Era stata riaperta a senso unico alternato solo sabato scorso, ma durante i lavori per la messa in sicurezza del costone è stata accertata la presenza di un'altra grossa pietra in bilico. Dovranno intervenire i rocciatori per farla scivolare sulla strada. Per chiare ragioni di sicurezza è stata disposta nuovamente la chiusura dell'intera carreggiata. Fino a nuove disposizioni è assolutamente vietato il transito con qualsiasi mezzo e a piedi. Gli automobilisti sono disperati, non ne possiamo più, fate presto, dicono, troppo lunghi e tortuosi i percorsi alternativi. Sul fronte viabilità il sud del Salernitano vive enormi disagi anche per la chiusura del Ponte Tanagro, sottostante la provinciale nel tratto che unisce Sassano a Padula. Da 15 mesi è interdetto alla circolazione a causa di un cedimento della struttura. Le istituzioni interessate più volte hanno annunciato i lavori di messa in sicurezza, ma ancora oggi quel tratto di strada importante per il Vallo di Diano è ancora chiuso. Il consigliere provinciale Carmine Amato di Fratelli d'Italia, con una interrogazione, ha chiesto al presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri, di conoscere se sono stati adottati provvedimenti per la messa in sicurezza e la riapertura del ponte necessaria per il ripristino della viabilità.